Dopo l'accoglimento dell'istanza di libertà su cauzione avvenuto in Mumbai sabato, ieri è stata la volta di Ahmedabad, oggi è stata versata la somma disposta nell'ordinanza di ieri dal giudice di 60.000 rupi equivalenti ai nostri 750 euro, successivamente è stata predisposta la nota di rilascio, pertanto i ragazzi sono da oggi nello stato di libertà. Ho avuto modo di sentirli con una videochiamata, i ragazzi stanno bene sia fisicamente che psicologicamente, hanno avuto anche modo di interagire con le famiglie facendoci recapitare un messaggio audio whatsapp, abbiamo avuto anche una foto da parte dei ragazzi, naturalmente sono senza i loro telefoni quindi tutto è stato effettuato tramite la legale sul posto. A questo punto i quattro ragazzi dovranno attendere per rientrare in Italia degli adempimenti procedurali per cui non è al momento plausibile dare una data certa ma comunque sia la cosa fondamentale è che nell'ordinanza dei giudici non è disposto nessun divieto di espadrio.